rieccoci qua buonasera a tutti da marcus allora è uscito il 48 quindi un altro abbinamento che salta via era il quinto colpo questa sera vedremo gli ultimi due tre colpi la settimana prossima poi ci fermeremo eh quindi comunque questo era lo schema che avevo fatto vedere il 48 guardate un po' ambatta contata di nuovo ragazzi il 48 arriva su bari e io l'avevo dato in terza posizione guardate un attimino stasera dove arriva il 48 terza posizione vedete che ambatta contata è una bomba dobbiamo aspettare questo 57 che arrivi questo 57 che arrivi con i restanti sono rimasti il 40 il 49 e il 45 introdurrò uno massimo due numeri della ventina perché ci sono dei cambiamenti c'è una somma particolare che va tenuta d'occhio con la ventina sempre in arrivo con il 57 quindi attenzione introdurremo uno o massimo due numeri della ventina non di più quindi ultimi due tre colpi la prossima settimana e vedrete che ci entreremo il 57 a bari guardate ancora una volta il 48 dove era stato dato con lo schema stasera esce il 48 con ambatta contata ma non è finita tiriamo giù la tendina il 90 lascia il segno adesso noi ritorniamo qui eccoci qua allora il 4 è uscito che stasera a napoli vedete come si combinano guardate 3 4 dal 90 lascia il segno e 4 napoli bari ora si potrebbe facciare dato che è uscito il 4 a napoli il 40 a bari quindi 57 si porta avanti 57 40 45 49 e un numero della ventina massimo massimo due quindi cinque abbinamenti e non di più ok cinque ambisecchi ancora su bari tutto qui il file 8 dat è stato aggiornato controllate il simbolotto sulla ruota di bari controllate il simbolotto da parte mia è tutto il file 8 dat è stato aggiornato buona serata e buon resto di sabato sera a tutti un abbraccio ci risentiamo domani marcus